Dare un'alternativa ai ciclisti, evitando la statale 16, garantire la sicurezza della mobilità debole, uno sviluppo economico e turistico del territorio costiero con i vari tasselli della ciclovia adriatica. Sono questi gli obiettivi alla base di interventi infrastrutturali come quello del ponte ciclopedonale sul fiume Cesano. È iniziato il montaggio dei conci, che daranno all'asse di collegamento tra Senigallia e Marotta-Mondolfo la sua fisionomia. Cantiere già iniziato alcuni mesi fa, un anno di lavori, conclusione entro fine 2024. È il ponte più lungo della ciclovia adriatica che realizza la regione Marche, i cantieri sono in opera, questo tra Marotta-Mondolfo e Senigallia, quello a Civitanova e Porto Sant'Elpedio e l'ultimo sul Tronto che unisce due regioni, Marche e Abruzzo. Quello dove siamo oggi vengono montati i conci del ponte, quindi siamo quasi alla fine del cantiere, rappresenta il ponte più lungo, ma rappresenta anche un'opera d'arte nelle opere d'arte che stiamo realizzando lungo la ciclovia adriatica, che con l'aggiunta a Acquaroli si concluderà perché oltre agli investimenti che abbiamo realizzato e stiamo realizzando sui ponti che sono le opere più complesse della ciclovia adriatica, realizzeremo anche i chilometri mancanti della ciclovia adriatica, sia in provincia di Pesaro Urbino che in quella d'Ancona, che proprio in questi giorni vedranno poi partire i cantieri in provincia di Fermo, proprio per i tratti di ciclovia adriatica mancanti. A sopralluogo per il varo del primo concio, presenti insieme alla regione Marche, anche i sindaci dei due comuni che verranno collegati sul Cesano dalla viabilità ciclobedonale. Sì, è un'opera estremamente importante soprattutto per il turismo perché questo è un grande passo per una ciclovia che è già presente nei due comuni ma che fondamentalmente rappresenta una cesura, quindi praticamente un collegamento che è estremamente vitale per poter promuovere appunto i nostri territori. Quello che abbiamo peraltro vissuto a Senigallia è abbastanza emblematico, opere come questo infrastrutturali sopra i fiumi devono essere fatte secondo tutti i crismi e con grande cautela, per cui è un'opera importante da un punto di vista economico che comunque dovrebbe rappresentare anche una sicurezza per il nostro territorio, questo è fondamentale per noi. Un'opera di fondamentale importanza per rendere ancora più attrattivi i nostri comuni costieri e i nostri comuni turistici per valorizzare appunto il nostro territorio dal punto di vista turistico e migliorare anche l'immagine della nostra comunità e dare maggiori servizi. In questi anni come amministrazione comunale stiamo lavorando molto sulla riqualificazione del lungomare, abbiamo investito molto per migliorare la zona mare della città e sicuramente questo ponte, il ponte ciclopedonale sul Cesano che è un sogno che diventerà realtà per la nostra comunità, sarà un'infrastruttura fondamentale, un ulteriore tassello per migliorare il nostro territorio.